Comandante, estate 2016, è possibile fare un bilancio degli incendi che sono accaduti sul nostro territorio e soprattutto compararvi anche con quelli degli anni scorsi? Sì, è un'estate che sta andando abbastanza bene dal punto di vista degli incendi, quindi un basso numero di eventi, grazie soprattutto all'andamento meteororico, che è un po' altalenante, forse non sarà l'ideale per i vacanzieri, però da questo punto di vista è molto favorevole. Non si capisce ancora quale sia esattamente l'origine della maggior parte degli incendi. Vi siete fatti un'idea? Sì, sì, no, abbastanza precisa, perché ogni evento viene indagato dal nostro personale e la maggioranza dipende proprio da fatti dolosi. Gli incendi colposi si sono ridotti vertiginosamente grazie alle nuove misure di attenzione sull'uso dei fuochi. Ci sono stati episodi particolari un po' nel nostro territorio, negli ultimi tempi, per esempio? Pochi eventi significativi, il maggiore incendio di un ettore e mezzo risale a marzo. Durante l'estate non ci sono state grandi cose, però siamo riusciti, grazie all'investigazione dei nostri reparti, a individuare un incendiario che è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Dov'era accaduto questo incendio? Dunque, nel comune di Pieve Santo Stefano ci sono stati diversi episodi di incendi originati da Rotoballe, nei pressi però di aree boschive. Grazie all'investigazione che è stata portata avanti è stato individuato e fotografato nell'esecuzione del fatto il responsabile. Grazie. Grazie.